Come sapete con grande celerità e profonda consapevolezza del problema il governo ha appena approvato un decreto legge finalizzato ad adottare misure di prevenzione nell'area dei campi flegrei interessata nelle ultime settimane da un accentuato fenomeno di sollecitazione sismica e di bradicismo. Il provvedimento ruota essenzialmente attorno a cinque iniziative. Un piano per l'analisi della vulnerabilità del costruito, quindi parliamo di edilizia pubblica e di edilizia privata. Un piano di comunicazione appropriata perché riteniamo che una buona conoscenza del fenomeno da parte della popolazione possa aiutare ad evitare condizioni di disagio, di stress, di ansia come purtroppo è accaduto nelle ultime giornate. Una pianificazione l'abbiamo chiamata speditiva dell'area interessata dal bradicismo. Stiamo verificando qual è la funzionalità delle infrastrutture strategiche nel caso dovesse rendersi necessaria l'attuazione del piano speditivo o piano di esodo come vogliamo chiamarlo e poi il potenziamento delle strutture di protezione civile che lavorano presso i comuni di quell'area. Si tratta di iniziative concordate assieme alla Regione Campania, ai sindaci nel corso dell'incontro che alcuni giorni fa ho avuto proprio qui a Palazzo Chigi. L'impegno di spesa a copertura del provvedimento è di 52 milioni e 200 mila euro, tutte risorse finanziarie approntate dallo Stato, dal Governo. Abbiamo chiesto alla Regione Campania di partecipare, ha ritenuto in questo momento di non doverlo fare, speriamo nelle prossime settimane possa cambiare idea. In ogni caso noi andiamo avanti e intendiamo farlo in perfetta collaborazione con la Regione, con gli enti locali, con la Prefettura. È chiaro che si tratta di una condizione nella quale la stessa comunità scientifica non è andata oltre la corretta lettura dei dati che emergono dai tanti rilevatori sul territorio. È stato proposto di mantenere lo stato di allerta giallo, anche se tutti sappiamo che il fenomeno può essere in evoluzione come potrebbe attenuarsi. Nessuno può aggiungere altre considerazioni, serve prudenza in questo momento, non serve farsi prendere dal panico, non dobbiamo sottovalutare quello che è accaduto e non dobbiamo neanche creare facile allarmismo. Insomma il Governo è intervenuto con prontezza, si tratta di misure di prevenzione che non porranno fine allo sciame sismico e al fenomeno del bradicismo, ma che consentiranno finalmente di poter conoscere meglio il fenomeno e di poter, fenomeno plurisecolare e di poter coordinare con le istituzioni locali il piano per ogni evenienza che dovesse presentarsi. La comunicazione da noi è ritenuta essenziale, bisogna cominciare dalle scuole, a parte i campi di Flegrei, come saprete proprio in questi giorni stiamo distribuendo oltre un milione di opuscoli nelle scuole secondarie di primo grado, finalizzate a richiamare l'attenzione degli alunni sulla prevenzione.